La riprova, non lo so, non ho la possibilità di tirare l'ultimo. Liberiamo tutto e poi in caso voi pensate come... Renato! Prendi e tusci. Garza successivo. Annel grande. Grazie. Tutto il radiologo e tutto il personale della protezione civile che ha scelto di utilizzare il nostro aeroporto insieme all'aeronautica militare per far partire questa importante missione con Italia.